Buonasera a tutti e benvenuti. Teresa May, ministro, primo ministro inglese, ce l'ha fatta qualche giorno fa, nel senso che il tentativo presentato da Jeremy Corbyn per farla saltare e quindi chiedendo la fiducia e quindi spodestare quello che il governo conservatore non è riuscito per poco, perché 325 voti hanno salvato Teresa May, 306 l'hanno bocciata. Peraltro qualche giorno prima ancora completamente pesantissimamente bocciata la linea della stessa Teresa May dalla Camera dei Deputati, nel senso che 432 voti contro, 202 a favore. Ecco perché l'escamotage del primo ministro è stato quello di provocare una votazione sulla fiducia, dove sostanzialmente si viene a dire, questo è un po' lo stile, signori si vota sulla fiducia, si pone la fiducia, se il governo perde il governo va a casa. Ed allora anche quei conservatori che magari avevano votato nei 432 voti contro la May hanno deciso di votare, in questo caso a favore del governo, per non andare a casa anche loro ovviamente. E quindi il governo si è salvato, Teresa May si è salvata, il progetto Brexit va avanti. Ma va avanti come? Questo è il grandissimo problema, il grandissimo crucio, il grandissimo terrore anche dal punto di vista sociale ed economico che gli inglesi stanno passando, perché probabilmente ci si è convinti di aver votato un referendum qualche anno fa, ma forse non nel modo migliore, senza aver approfondito ogni tematica di convenienza, senza aver sviluppato comunque un piano B in caso di riuscita del referendum, non si è ben capito. Sembra che tutti vogliano ritornare al referendum per valutare o meno l'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna. Questo si sente, è palpabile questa sensazione anche all'interno del Parlamento. In realtà con la fiducia al governo May, la May non ha detto andiamo al referendum, ha detto andiamo avanti con quella che è la cosiddetta Brexit, la strategia per uscire dalla Unione Europea. Sta di fatto che questa strategia però non c'è, perché a marzo se non c'è un piano e questo piano non è stato ancora sviluppato e i francesi gliel'hanno detto e i tedeschi gliel'hanno detto e Juncker gliel'ha detto, il problema è quello che ci troviamo allo sbando se non ero il 23 o il 29 marzo, perché scatta la Brexit, cioè da quel giorno siamo tra virgolette estranei, siamo separati in casa, i confini vengono ripristinati, Irlanda del Nord e Irlanda che oggi circolano liberamente anche con diverse visioni politiche, diverse visioni europeiste, si ritroverebbero dal giorno dopo ad avere il confine, quindi il passaggio, la sbarra che si alza e che si abbassa fra irlandesi che si vogliono spostare da una parte o dall'altra, Berlino est, Berlino ovest. Quindi questo accordo non c'è e il problema oggi è quello di capire che cosa facciamo, rinviamo quella che è l'operazione accordo perché per arrivare a marzo non ce la si fa? Forse è un'ipotesi importante da prendere in considerazione perché se non c'è un piano non ci si può nemmeno lasciare senza delle regole, si creerebbe il caos sociale, politico, economico, assistenziale, sanitario, doganale, delle merci, del commercio e di tutto quanto, degli studi, della cultura, degli scambi perché veramente diventeremmo estranei dopo anni e anni e anni di convivenza e di collaborazione pacifica all'interno dell'Unione Europea. sarebbe un'uscita disordinata, sarebbe un'uscita con grandi ripercussioni per tutti. Diventerebbe difficile per gli inglesi vendere, dico brutalmente, in Europa, ma uno dice ma ci sono gli Stati Uniti, ci sono i paesi dell'est, c'è la Cina, va bene, ma tutto questo comunque creerebbe un grosso problema a tutti, inglesi compresi. Ripensare a un referendum sulla scorta di una fiducia così risicata è anche un'opzione sul tavolo del primo ministro, ovvero ripensare a un nuovo referendum e quindi 29 marzo salterà tutto, l'accordo non c'è, il referendum si rifarà, non si sa, il rinvio di un anno, due anni servirà qualcosa, lo vedremo. Questo è il pasticciaccio europeo che davvero non convince nessuno. Grazie.